Marco Savini, fondatore di Big Rock. Perché hai deciso di aprire una scuola di grafica? Perché è una soddisfazione personale. Quando tu fai una società o qualsiasi roba, sei molto egocentrico, il tuo obiettivo è fare qualcosa che lascia il segno, che sia un iPhone, che sia una società da 10 miliardi di euro. Siccome non ero in grado di fare né un iPhone né una società da 10 miliardi di euro, la cosa che lascia più il segno nelle persone è cambiargli la vita. Tu quando prendi una persona dal niente e poi gli fai trovare un lavoro che sia anche importante come quelli che fanno qua, gli hai effettivamente cambiato la vita e gli hai lasciato un segno talmente profondo che è al di là di un iPhone in una società di 100 milioni di euro. E quindi fare una scuola era dare la possibilità a gente normale, mettiamola così, di fare quello che volevano fare. E la scuola è la cosa più semplice, che gli metti in mano uno strumento incredibile, dici lo puoi fare, guarda, ti faccio vedere come, gli dai la via, gli dai la scintilla e poi loro lo fanno e lì gli lasci quel segno. E quello è il motivo per cui è bello fare una scuola. Che cos'è per te l'innovazione? Innovare e creare qualcosa di nuovo non vuol dire creare un oggetto incredibile che cambierà le sorti della terra o che costruirà. Innovare per me vuol dire tu arrivi sulla terra in un momento e devi lasciarla meglio di come sei arrivato. Per cui per lasciarla meglio innovare vuol dire qualsiasi cosa, tipo fare in modo che i ragazzi riescano a fare il loro lavoro, fare in modo che qui prima c'erano dei trattori e adesso invece c'è una scuola che cambia la vita della gente. Sicuramente l'innovazione è anche in piccole cose che però fanno la differenza. Magari l'innovi semplicemente dicendo qui a me o a Roncade non c'era niente, la gente viveva nel bar il pomeriggio a giocare a carte. Oggi è una realtà che sforna artisti che in tutto il mondo fanno i film che la gente vede in tutto il mondo e è cambiato la vita di un paese, è cambiato la vita di un sacco di persone. Quella lì per me è innovazione. Per noi innovazione è semplicemente divertirci a fare cose che non esistono e farle diventare reali. Quale futuro vedi per la computer grafica? Se tu immagini anche solo una qualsiasi macchina che guidi oggi ha un'iconcina in 3D, ha il display che vedi sul monitor che ti proietta la strada in 3D davanti, per cui tra un po' la tecnologia sarà talmente visiva e facile che quello che succederà è che ci sarà una richiesta incredibile di computer grafica di vario livello che può essere programmazione da mettere dietro per fare le cose che girano sullo schermo di una macchina, per esempio, piuttosto che videogiochi sempre più complessi, film sempre più complessi, vorremmo togliere gli attori perché costano troppo e metterci quelli 3D, oppure perché voglio vedere Svarsenegger fino a 600 anni, però non posso perché dopo un po' lui diventa vecchio e io voglio vedere Terminator sempre con lui per cui la richiesta del 3D sarà devastante, cioè che sarà proprio una roba e più andiamo avanti più ci sarà necessità di contenuti, di risorse, di video, di effetti sui video, eccetera, eccetera.